Nel momento migliore del Sassuolo è arrivato in segno con quei gol, quanto fa male subire un gol così? Beh, Lorenzo vi ha abituati bene, purtroppo non è il primo che ci fa da fare la posizione, ma ne ha fatti diverse tante. Sì, ci ha un po' tagliato le gambe perché eravamo in un buon momento, avevamo creato diverse palle e gol, stavamo spingendo. Credo che c'è un po' di rammarico perché potevamo sicuramente portare a casa qualcosa di più. È vero che ce la siamo un po' complicata lì, è vero che le occasioni importanti del Napoli sono stati principalmente errori nostri, però poi siamo stati in partita, abbiamo fatto tratti, abbiamo messo in difficoltà una grande squadra e ripeto, secondo me il risultato è un po' largo per quelle occasioni avute. E' ancora così distante questo Napoli dalla Juventus secondo te? Sinceramente la Juventus mi scogra molto, molto forte, non l'ha scoperto certo. Napoli secondo me è diventato molto più internazionale, giocando tante partite, il fatto di ricambiare tanti, avere, tenere tutti i motivati giusti e dalla possibilità di minutaggio si comincia, credo che sia un grande lavoro che sta facendo Ancelotti, però credo che la Juventus sia ancora un po' distante. Ma nel rinnovo quanto li rendono posizionale? Molto, molto perché la società mi ha dimostrato un estimo, penso di aver dato tanto a questa maglia e sono stato ricambiato negli anni e ho fatto un contratto importante. Ho voglia ancora di crescere perché ci sono tutti i presupposti per crescere e fare ancora più di cose. Grazie a tutti.